Buonasera, io sono un bellissimo giurista, matematico, poeta, musicista e filosofo carpinetano, perché sono nato un carpinetto che è vicino di Civitaguara. Amo Civitaguara e Carpinetto per il paese. Vorrei leggere una poesia ai ragazzi di Civitaguara. Penne o Bois, che scrivono con arte, con i nostri vestiti pendenti. Bois, salutate da lontano, un cecolo sulla faccia che sembra di cattiveria, ma è cattiveria che è voltà. Questa è una verità ossimorica, è ciò che dice il contrario. Siete un popolo che ci aspetta. Perfezione come penne e nastri sulle fronti da trans che non lo sono. Bois, due punti, piccoli e infiniti, di un'età che si confronta come nulla e tutto dinanzi a ottantenni di cui voi nulla sapete. tre punti escravativi. Noi Bois siamo come penne con cui scrivono bambine delle elementari, penne citate dall'arte. Noi criminali di bontà lungo la strada, come donne incriminate, punto escravativo. e ascoltatevi la canzone Bois, Bois di Sapri da Salerno. Ciao!